sogni particolari vorrei che l'elettronica nella sua marcia triunfale lasciasse un angolino alla poesia entrando nell'ufficio dell'anagrafe sarei affrontato dal freggio di un cappello da baffi di severità da occhi di chi non mente a cui non si può mentire ci sarebbe così l'ora della verità scrivere degli occhi dell'altezza della professione sul fondo in rossa annotazione sogni particolari